Da lunedì prossimo si torna a scuola in presenza anche alle superiori ma non al 100% come era stato annunciato forse con eccessivo ottimismo. Ci si dovrà accontentare di una percentuale per quel che riguarda le zone arancione e gialle che va dal 60 al 75% e che si ferma al 50% nelle zone rosse. Le superiori triestine sono pronte anche perché, come ci ha raccontato la professoressa Cesira Militello, preside del Petrarca, ogni istituto ha elaborato un protocollo preciso in tal senso, preparato durante l'estate e che è stato semplicemente adattato alle nuove circostanze. Ci saranno delle sezioni che rientreranno frequentando per due settimane, altre sezioni che resteranno per due settimane a casa ma con tutta probabilità riusciremo a garantire la presenza al 100% a tutte le classi del quinto anno. Il governo, sottolinea la professoressa, ha accolto le posizioni estremamente prudenti espresse da presidi, studenti e genitori che hanno guardato persino con preoccupazione all'annuncio delle nuove aperture. Questo è un segnale veramente molto molto positivo perché significa che il governo ascolta la base, fa una proposta, recepisce le osservazioni, le proposte, le riflessioni che provengono da chi in classe sta, da chi ha le mani in pasta, che è fondamentale e quindi è un segnale di grande speranza perché significa avere un'interlocuzione con persone che ascoltano. Il vero problema, tutti lo sottolineano, è rappresentato comunque dal trasporto pubblico che fra l'altro nel caso del Petrarca un po' si complica, giacché delle stesse linee che portano al liceo classico si servono anche gli studenti dello scientifico Galilei. Le prefetture hanno elaborato dei piani e sulla base di questo piano noi abbiamo articolato un inizio scaglionato delle lezioni, quindi il liceo Galilei inizia le lezioni alle 7.45, il liceo Petrarca le inizia alle 8.15, tra l'altro c'è un'ora di distanza tra l'ingresso, tra i vari gruppi di classi. In ultima analisi però per cominciare a ragionare attorno ad una parvenza di normalità bisognerà aspettare non tanto la fine dell'estate quanto l'andamento della campagna vaccinale. L'avanzare della campagna di vaccinazione di massa sarà un elemento fondamentale per la ripresa in sicurezza delle lezioni a settembre. Se sarà stato vaccinato tutto quanto il personale scolastico che già attualmente risulta nella stragrande maggioranza dei casi vaccinato, se saranno stati vaccinati anche gli studenti, le loro famiglie, allora veramente si potrà ritornare in presenza in sicurezza.